Gagliani, la Juve ha già pagato abbastanza, adesso sarebbe in Champions League. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Adriano Gagliani è con la Juventus. L'amministratore delegato di Monza, intervistato nelle colonne del cittadino, si è soffermato sulla sanzione inflitta alla Juventus a seguito delle recenti sentenze tra plusvalenze e manovre salariali, penso che i bianconeri abbiano pagato abbastanza, dichiara l'ex allenatore del Milan. Senza un rigore la Juventus sarebbe in Champions League. Sarebbe precisamente perché la vecchia signora, classificata alla fine della settima, si è qualificata per la prossima Conference League. Tutti in attesa di possibili giocate UEFA. Stagione da sogno, il miglior ricordo della stagione per Gagliani è legato alla Juventus, la vittoria con loro è stato il momento migliore. Siamo il miglior neopromo d'Europa, come Fulham. Per Palladino siamo stati massacrati come Sacchi, ora può seguire le orme dei grandi allenatori. Colpo in arrivo, lo stesso Palladino è stato recentemente blindato dal Monza con il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024. E un primo acquisto è già vicino, questo è Ignacio Aliseta. Vuoi avere notizie veloci ed esclusive su Juventus. Iscriviti al canale e clicca sulla campana per non perderti nulla.